Stop alle escavazioni nella Valle delle Piagge, così si è pronunciato il Consiglio di Stato che ha sospeso il permesso di costruire sino a che il TAR di Firenze non si sarà pronunciato definitivamente. Per l'area erano scattati sigili lo scorso ottobre con un provvedimento firmato dal GIP. Secondo gli inquirenti infatti sarebbe stata divorata una collina e perpetrato uno scempio ambientale con la creazione di una cava abusiva. Lo scavo, secondo la procura, non sarebbe così che una cava di inerti per costruzioni senza autorizzazioni. Circa 5 ettari dove alcune settimane fa era scattato il blitz dei carabinieri forestali che aveva portato a quattro denunce per il proprietario del terreno, il titolare dell'impresa, il progettista direttore dei lavori e il geologo consulente alla progettazione. Erano stati ipotizzati i reati di tipo ambientale urbanistico e attestazioni false. Le indagini erano partite dalle segnalazioni del Comitato Civico La Valle delle Piagge preoccupato per le attività nella collina. I proprietari dell'area invece hanno sempre difeso lo scavo fatto sostenendo che servisse per realizzare l'invaso irriguo collegato ad un futuro noccioleto. Il sequestro era stato poi annullato nei giorni scorsi dal collegio di giudici presieduto da Gianni Fruganti e il provvedimento disponeva la restituzione della superficie ai proprietari. Ieri però il Consiglio di Stato ha stoppato i lavori di escavazione ritenendo che i lavori in corso siano effettivamente suscettibili di incidere in maniera potenzialmente irrimediabile su plurimi e delicati interessi pubblici e privati considerando che la vicenda ha risvolti d'ordine anche penale. La palla adesso passa così al TAR di Firenze che dovrà esprimersi sulla vicenda.